E' con una difesa a spada tratta che il premier Mareno Rajoy ha respinto le accuse che potrebbero far scoppiare una nuova tangentopoli in Spagna. Dopo aver riunito d'urgenza l'esecutivo del Partito Popolare, Rajoy ha intervenuto per la prima volta sullo scandalo senza concedere la possibilità ai giornalisti di formulare delle domande. Userò non più di due parole. È falso, dice. È falso. Lo ripeto, non ho mai ricevuto e finanziato il Partito altre formazioni con fondi neri. Lo ripeto ancora una volta. È falso. Il premier spagnolo ha aggiunto che pubblicherà online la propria dichiarazione dei redditi a scatenare la bufera sul governo di Madrid e le liste apparse in questi giorni su Quotidiano e il Paese. Dei presunti conti in nero tenuti da due tesorie del PP, Alvaro Lapuerta e Luz Barsenas. Anni diversamente ai vertici del partito da importanti imprenditori, soprattutto del settore edilizio.